Alla chat abbiamo i nostri 20 pacchetti ne abbiamo 11 normali e 9 si era buggato e 9 bravo sappiamo tutti che nei bravo io trovo solo verdi ultimamente pure negli alfa sinceramente verdi blu speriamo di almeno trovare qualcosa di decente sono due crit opening pack opening alla che butto perché non trovo niente speriamo di trovare una sole nero comunque skinne fighe magari ok vai open now il primo verde però diciamo che vabbè è il primo sti cavoli il gioco deve un attimo farci capire chi comanda vai e il secondo è verde il soggetto di che ma in che senso vabbè raga mi stanno trollando penso palesemente sia un troll penso che ubisoft mi stia sputando addosso cioè mi fai trovare la verde copri capo di mira mi rifai trovare la verde mi rifai trovare il copri capo di mira ma mi prendi per il culo stiamo trollando c'è una c'è una cam oltre alla mia mi stai riprendendo è per uno show e allora ok se no vaffan cucciolo che cavolo raga partiamo malissimo malissimo raga se questo è un altro copri capo di mira io impazzisco urlo ok va bene siamo comunque già tre verdi grazie signore allora chat è viola però ultimamente il gioco mi trolla con le viola ok mi fa trovare tipo copri capi cose strane vestitini cretini quindi eh speriamo allora 3 2 1 ah raga io io ma stiamo scherzando cioè tu mi fai trovare una viola deadlift con la papera io piango io piango mi metto a piangere ma che è mi rado la febbre no vabbè insomma chat andiamo avanti la prima viola kek un'altra verde baggata molto carina complimenti complimenti al creatore un'altra verde raga non fanno fesso le nerve almeno per me veramente c'ho l'account baggato penso palesemente di avere l'account baggato cioè è ridicolo non c'è niente guardate tutte verdi ma siamo ma ragazzi ma mi serve tipo una cosa voodoo cioè bisogna tipo della forza astrale che mi bacia che schifo ma che c'è e ci sarà un giorno che troverai due sole nero di fila tra queste sì sì guarda fa me ne trovare una eh sì nel culo me le infilo pap 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 insomma pap 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 ragazzi bravo pax ci divertiamo con il bravo pax io urlo io urlo chat io full set sole nero jager che bene capito zio non trovo niente ok allora non è sole nero però leggendario può essere sia una merda che bella leggendario sempre un 50 e 50 speriamo bene oh mia eh beh che dire che dire Dai Cioè Ci sta No ma Lucia Vado a uscire qualcosa di peggio Dai ci sta Non fa cagare dai Certo È la primaria vero? Che non useremmo mai vero? Non è brutta Sì ma è per la primaria Che non useremmo mai vero? È la primaria Non la secondaria Però vabbè C'è inutile comunque Però va bene Ok un'altra verde Paresemente superiori Noi sempre Ti prego Ti prego cioco Ti prego Aiutami Oggi sto male Ma ti sto comunque giocando Dai cioco Fallo per me Fallo per me una volta Dai Una volta ti prego Ti scongiuro Ti prego Alla chat Le volante prima Lo dite voi Tramite i commenti Io andrò a capire se Avrò trovato qualcosa di figo o no Ok 3 2 1 Cos'è chat Cos'è Mi dimmi che è una sola nero Vi prego E non un'altra paperella di merda Cos'è chat Bella Oh Sì sola nero Lision Yeah Sola nero Signori Finalmente Dopo 20 40 50 53 Pacchetti Chat Dopo 53 Pacchetti Io Ho trovato una sola nero 53 Pacchetti Chat Dopo 53 Pacchetti Finalmente Abbiamo trovato Una sola nero Oh mio dio Equipe to all Subito Eppure bella E' quella di Lision Molto bella Oh mio dio chat E' stata E' stata dura E' stata palesemente Dura Ma alla fine Ce l'abbiamo fatta E non è ancora finito Dai Allora Hai fatto 30 Fai 31 Dai Ho 53 Pacchetti Ok Cioè non è che dici Vabbè dopo 3 pacchetti 53 Se me ne fa uscire un'altra Comunque La media è sempre una merda Ok 2 su 50 4 5 2 su 55 E' un po' un problema Dai Chat Let's go Let's go Ale l'aveva detto Ale Doppio sola nero Alla chat Di nuovo Levo Levo l'anteprima Che ha funzionato Levo l'anteprima E mi dite voi 3 2 1 Cos'è Cos'è chat Se è sola nero Sbrodolo Se è back to back Veramente sbrodolo Se no se è una minchiata Alla che ci abbiamo provato Cioè nel senso Paperella Detto Ah Cazzo Ciao Ciao No Pog Perosa 3 2 1 Ma Chat Ma Back to back Veramente Ma è pure quella figa di Termite Raga What the fuck Chat ma 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 in che senso Cioè Ale l'avevi detto Back to back Cioè Cioè dopo 55 pacchetti Raga Due solo a nero di fila What the fuck Ma ragazzi ma Aprire i pacchetti con 38 di febbre Funziona Ma io aspetterò Di avere 38 di febbre di nuovo Per aprire i prossimi pacchetti What the fuck Eh se ce ne abbiamo ancora 4 Eh ma Vabbè Ciao Non chiediamo troppo Nel senso Ok dai Verde ci sta Va bene dai Ok Non ci lamentiamo Dai Va benissimo L'ultima Viola Così per Creare Così un po' di Potrebbe essere quel momento Non back to back to back Perché Ci ha dato due verdi O tre Non mi ricordo Però potrebbe essere un'altra Sola nero Chat Potrebbe essere Potrebbe essere Chat Rileviamo l'anteprima Chat È quel momento 3 2 1 Chat Che cos'è Chat Che cos'è Che merda Ah Fuck No Ma che è I cheese gate E questo è viola Ragazzi ma Mi spiegate perché questo Dove essere Viola Ma che è Ma che è Quel coso viola No raga ora Cioè ma Spiegatemi Come potrebbe mai Quel coso essere viola Signore di Ubisoft Buongiorno Ma come cacchio È quel coso viola Però Comunque Non ci lamentiamo Quindi grazie Arrivederci Ubisoft È stato un piacere Tante belle cose Ciao Red Grazie E Buongiorno Abonne Parent Mi Qui 해주 Mi 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 A Qui Mi